Anche Castellabate avrà il suo ufficio di prossimità, quale punto di accesso diretto per fruire di servizi di consulenza, orientamento, oltre che servizi di invio documentale. Tale ufficio renderà la giustizia più vicina a tutti i cittadini, afferma il sindaco Marco Rizzo. Ho trovato interessante da subito quest'iniziativa e ho ritenuto necessario che il comune di Castellabate aderisse al progetto complesso PON Governance, avviato dalla Regione Campania in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Nel Cilento sono cinque i comuni ammessi, Castellabate, Alfano, Montano Antilia, Omignano e Roccadaspide. L'obiettivo del progetto è la delocalizzazione di alcuni servizi che prima erano accessibili soltanto presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Il sindaco Marco Rizzo e la sua amministrazione si ritengono soddisfatti di aver raggiunto un obiettivo così nevralgico e importante per la cittadinanza. Grazie a tutti.